un caldo benvenuto a tutti i tifosi collegati siamo in compagnia di bomber Mirko Antenucci 44 gol 6 doppiette con il Bari l'ultima ad Andrea e cominciamo con le domande dei colleghi Antonio Guido del Corriere dello Sport bentornato capitano bentornato al gol alle doppiette e alle interviste grazie capitano e Valerio comunque sempre quindi io adesso faccio solo le sue veci nella speranza che torni il prima possibile sì è un buon momento per quanto mi riguarda anche per quanto riguarda la squadra abbiamo ottenuto due vittorie consecutive quindi è un buon momento per noi bisogna bisogna continuare così ciao Mirko diceva Leo 44 gol 41 credo in campionato compreso quello di playoff e 3 in Coppa Italia dovrebbe essere così la statistica insomma però sei entrato nella top 10 degli attaccanti più prolifici del Bari di sempre non so quanto ti intrighi l'idea di entrare nella storia di un caldo insomma però voglio soprattutto parlare del tuo legame con questa con questa città è stato un po' altalenante però i numeri sono da tua parte sì no no sicuramente è un motivo d'orgoglio per me perché comunque entri a far parte almeno statisticamente della storia di un club a livello di di gol ovviamente io sono venuto qui a Bari per un motivo ben preciso e specifico che a tuttora non abbiamo raggiunto e quello per me conta di più dell'aspetto numerico però voglio dire mi fa piacere è una cosa che mi rendo orgoglioso ma il mio rapporto è molto buono io mi trovo davvero bene qui a Bari la mia famiglia sta bene è normale che poi i risultati accompagnano un po' la nostra vita perché il calcio è uno sport talmente sociale che va a interessare la vita di tante persone che quindi anche poi le nostre vite un po' cambiano anche in base ai risultati allo stare bene o meno bene in una città però per quanto mi riguarda qui a Bari io sto davvero molto bene Sì ciao Mirko io vorrei fare una considerazione con te perché guardando insomma i numeri le statistiche è chiaro che si parla di un Mirko Antenucci ritrovato io però vorrei fare diciamo un focus con te non è tanto un Mirko Antenucci ritrovato quanto un Mirko Antenucci che forse è stato rimesso tatticamente nelle condizioni di esprimersi al meglio perché evidentemente diciamo che riesci ad esprimerti meglio in coppia con un altro compagno di reparto così come era successo ai tempi di Vivarini volevo condividere con te questa considerazione ma guarda ritrovato io ci sono sempre stato e poi è normale che i gol possono condizionare o meno il giudizio e questo lo capisco però i gol vanno è una conseguenza di tutto è normale che adesso sto giocando anche con più continuità la squadra ottiene risultati quindi anche più semplice per me che comunque sono un finalizzatore però io ci sono sempre stato nei momenti difficili e meno difficili ho sempre messo la mia professionalità al servizio della squadra quindi è normale che poi voi dovete fare delle considerazioni e a livello numerico può essere un Antenucci ritrovato però io non la leggo proprio in questa maniera qua la vedo più una conseguenza dei risultati della squadra delle mie prestazioni che sono cresciute io la vedo un po' così prego Franco Cirici allora Mirko premesso che per me il Bari ha la fortuna di avere da tre anni il giocatore più forte della Serie C ma non faccio il nome naturalmente perché non è necessario e quindi questo è un grosso vantaggio un tesoro, un patrimonio ma dico più forte sul piano tattico, tecnico, di intelligenza e di tutto il resto vorrei chiederti qual è la cosa che ti fa stare male ti offende di più l'errore che non deve fare un allenatore con te panchina a parte ovviamente nel senso che posso supporre che quando uno sta quattro settimane consecutive in panchina forse un giocatore come Antenucci se la prenda un pochino anche se non lo dirà mai però panchina a parte qual è l'errore che non deve fare un allenatore con te c'è un errore che ti metta nelle condizioni di non dargli il massimo ma inconsciamente perché tu non è che non gli dai il massimo perché non sei un professionista lo dai sempre ma inconsciamente non sei tu perché io con Carrera non ti ho visto come ti vedo in altri momenti tanto per fare nomi e cognomi in certi momenti quest'anno non sei stato tu adesso l'Antenucci col Catanzaro con la Vibonese con l'ultima che abbiamo fatto ad Andrea addirittura meglio di tante altre volte ma è semplice nel senso ci vuole trasparenza ci vuole a dirsi le cose come stanno cioè perlomeno con me funziona così io sono abituato così ma sia da parte di un allenatore che da parte mia verso l'allenatore con gli allenatori che ho avuto più rapporto che sono stato meglio ha funzionato in questa maniera a dirsi le cose come stanno anche se a volte si può essere più o meno d'accordo su diverse tematiche però la trasparenza e essere coinvolto in maniera piena nel nel progetto che sto vivendo io penso queste qua le due diciamo cose un po' più più importanti poi è normale che a nessuno piace non giocare anche al ragazzino che ha appena iniziato e ha tre presenze voglio dire è normale che uno ci sta male però deve reagire nella maniera giusta mettere in difficoltà l'allenatore non è che se uno non gioca abbassa la testa o non corre o si allena male perché se no così dai ragione alle scelte che uno fa e non fai cambiare l'idea all'allenatore penso che questo c'è stata la trasparenza di una partenza sì 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 assolutamente sì assolutamente sì 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 il rapporto col mister è buonissimo come con lo staff con tutti i compagni c'è un clima un clima buono nel nostro spogliatoio penso che che si veda anche alla fine grazie Mirko vorrei chiederti rispetto a un teorema che abbiamo sentito proprio dall'allenatore che ha detto rispetto al tuo momento questa stagione probabilmente Mirko è stato agevolato da un processo di de-responsabilizzazione diciamo del ruolo in questo Bari per esempio rispetto a quello che tu rappresentavi un anno fa e ti chiedo poi come hai recepito anche quel essere posto a modello nello spogliatoio cioè un giocatore che nonostante la tua caratura magari non ha vissuto un momento brillantissimo ha accettato la panchina con il lavoro e il sacrificio ha saputo riguadagnarsi il posto questi due concetti se puoi no ma a me a me piacciono le responsabilità quindi non ho problema in quello lo sfogo che ho potuto avere l'anno scorso dopo la partita col Catanzaro mi dispiace anche perché forse ha creato anche una spaccatura non volendo però era fatto davvero in buona fede vivendo un momento di difficoltà dove non riesce a raggiungere risultati quindi non è un de-responsabilizzare me stesso assolutamente mi piace la responsabilità non ho questo tipo di problemi mi piace sempre mettermi in discussione a 37 anni quindi non è quello il discorso e poi è normale che le parole del mister fanno piacere perché vuol dire che che uno lavora bene ci tiene a quello a quello che faccio e quindi è un orgoglio per me le parole che ha detto il mister è un orgoglio le parole che ha detto il mister per me mi fanno solo che piacere Mirko ti chiedo invece nella tua prima stagione a Bari hai realizzato 10 gol 6 gol nella scorsa stagione dopo 15 partite e anche ora 6 gol però comunque rispetto alla scorsa stagione probabilmente è un qualcosa di diverso rispetto dello spogliatoio uno spogliatoio più compatto e tu come ti stai trovando probabilmente il Mirko Antenucci che conosciamo è quello che anche abbiamo visto contro il campo basso che sei stato un leader non lo so a livello statistico poi sai ogni stagione è diversa ogni momento è diverso quindi fare il il confronto tra partite giocate e gol fatti sì a livello statistico può servire però non sempre inquadra bene la situazione che si sta vivendo però ti ripeto il clima molto sereno però con la consapevolezza che ogni partita va va aggredita in maniera feroce a prescindere da chi si possa trovare davanti perché la partita con la Vibonesi ha dimostrato che tutte le squadre possono metterti un po' in difficoltà e quindi non bisogna avere cali di concentrazione ed essere sempre pronti al massimo ogni volta Mirko ciao ciao noi siamo contenti di rivederti in campo di rivederti al 100% perché quello che stiamo vedendo finora è l'antenunci che conosciamo ormai da anni in più hai una responsabilità che è quella quella fascia da capitano che ti ha lasciato il tuo compagno e amico Valerio Di Cesare ti chiedo quanto senti la mancanza di Valerio in campo e cosa fa Valerio Di Cesare anche dietro le quinte per fare gruppo ma si sente tanto l'assenza di Valerio perché oltre ad avere voglio dire un rapporto d'amicizia speciale che ci lega è un simbolo per noi per come ha affrontato questi anni anche un po' difficile perché comunque i risultati non ci hanno aiutato e nella maniera in cui tiene a questo progetto nella maniera in cui schezza nello spogliatoio oppure quando c'è da arrabbiarsi ci si arrabbia è una presenza che manca e dobbiamo cercare di sopperire in questo momento a questa assenza qua cercando di di continuare a vincere le partite solo così possiamo fargli onore per me la fascia di capitano a parte di Cesare è stata una costante nella tua carriera insomma che cosa significa e poi uno sguardo al campionato quattro partite al primo traguardo volante traguardo d'inverno come la vedi? sì sì sono stato due volte capitano nelle squadre dove ho giocato a Ternia e a Ferrara è una responsabilità perché comunque anche l'età voglio dire però secondo me devi dare l'esempio devi essere un esempio per gli altri cercare di di trascinare i tuoi compagni a volte con una parola di sostegno a volte anche arrabbiandosi poi dipende anche chi è e chi è di fronte e cercare di ho detto prima di essere un esempio per gli altri e adesso vediamo prima prima di fare il calcolo quattro cinque partite dobbiamo affrontare gara per gara e pensiamo a Latina a sabato Mirko parlo di Paponi perché è l'ultimo ad aver giocato in coppia con te che coppia è Antenucci Paponi cosa ti consente di fare di diverso Paponi con la sua presenza in campo ma Dani beh innanzitutto gli faccio i complimenti perché non era facile dopo tante panchine dopo non aver trovato quasi mai spazio non è facile essere pronti fare una partita dell'intensità che ha fatto Dani e quindi è stato davvero molto bravo e Dani è un giocatore intelligente già quello fa tantissimo per come vedo io il calcio e poi rispetto a me è più un attaccante d'aria io mi piace stare in aree ma mi piace anche sbariare mi piace mettere anche una palla filtrante quindi abbiamo caratteristiche caratteristiche diverse allora Mirko intanto ti volevo ricordare una cosa non è una domanda si suppone già la risposta tieni conto che la partita con il Latina per Bari e per i baresi non è una partita normale cioè lo sai bene vorrebbero un impegno a milione pur di vincere la partita per quello che il ricordo anche se adesso Bari e Latina sono completamente diverse sono rimasti i nomi però quella ferita è rimasta molto aperta quindi è solo ricordarti che è una partita un po' diversa ma lo sapete poi c'è una cosa che è il mistero del calcio una di quelle cose che mi ha sempre affascinato ne sto parlando con Giorghini ogni giorno ma lui non mi risponde bene il rapporto del rigorista con il rigore quando a un certo punto ti volta le spalle ti dice guarda adesso la palla non entra Giorginio sta tentando non gli sta andando bene tu hai scelto anche lui però la stessa strategia continuo a batterli non mi arrendo e devo vincere io però capisci che è una cosa difficile per chi sta fuori riuscire a interpretare perché sarebbe più facile per il protagonista dire adesso non mi rompete più le palle non li tiro più così siete contenti tutti però sei uno specialista ti prendi le tue responsabilità l'hai detto alla fine sono due rigori di seguito che adesso fai e riesci a trasformare che cos'è una battaglia con se stessi voglio capire perché è misteriosa questa cosa che cos'è il rapporto fra uno specialista e il calcio di rigore allora vabbè i rigori io l'ho quasi sempre battuto in tutte le squadre dove ho giocato il rigore se uno lo segna è normalità se uno lo sbaglia è una fregatura però per dire l'anno scorso dopo i due errori non è che non avessi più il coraggio di battere i rigori ci mancherebbe però ho visto che forse era meglio dare spazio agli altri compagni di squadra infatti poi mi sembra Marlas ha battuto due rigori mi sembra però siccome li ho sempre battuti non mi sembrava corretto neanche quest'anno non batterli o non non provarci perché comunque li ho sempre battuti mi alleno nel fare questo poi come hai detto tu Giorginio ha quasi sempre fatto gol poi pesano quei pochi errori che ha fatto rimangono rimangono quelli là però i rigori sono così purtroppo non c'è uno studio non c'è una scienza esatta sì però non è una sfida personale non è una sfida personale è una sfida per la squadra perché grazie al gol segnato porti a casa i tre punti con la Paganese non fai gol pareggi la partita in altre situazioni fai gol e le vinci quindi sì è una sfida personale a livello statistico e di soddisfazione personale però poi è come un gol normale ti porta a poter vincere una gara però sicuramente da parte mia c'è la serenità e la voglia di continuare a batterli poi è normale che se avessi qualche difficoltà o vedo che le cose non vanno bene come l'anno scorso non ho problemi a farmi da parte ma non per paura o per altro ma perché ci sono anche altri compagni di squadra solo per quello poi per quanto riguarda il Latina sì so che partita è stata so che cosa significa per il Bari però adesso abbiamo un'altra stagione per noi significa dover fare altri tre punti in casa sì Mirko una curiosità rispetto a una cosa che hai postato su Instagram hai citato Freddy Mercury si può essere tutto ciò che si vuole basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere che significa per te ma intanto Freddy Mercury per me è un idolo è stato un frontman incredibile il numero uno di sempre quindi per come piace la musica a me per come per come vedo la musica io è stato un grande un grande esempio e mi piace ascoltare tutte le sue canzoni mi piace vedere le sue quello che dice quello che vuole raccontare poi la frase che hai citato poi ognuno può dare il risvolto che vuole chi lo dà in un modo chi in un altro il significato vero della canzone poi lo puoi lo puoi dare tu o o altri insomma sì sì 30 anni sì ringraziamo Mirconto e Mucci lasciamo il rinforzamento ringraziamo i colleghi intervenuti e i tifosi che ci hanno seguito grazie grazie